Reintegro degli organici, regolarizzazione degli stipendi per tutte e quattro le strutture sanitarie sul territorio aretino gestite dalla cooperativa Agora, seppur con tempistiche diverse e riassunzione di personale cessato dimesso già a partire dal prossimo mese di giugno. Questi i punti principali dell'intesa trovata tra il sindacato autonomo degli infermieri NURSIND e la cooperativa Agora, di fronte al vice prefetto di Arezzo, Rosalba Guarino. È il segretario provinciale del NURSIND, Claudio Cullurà, che racconta i contenuti. Per quanto riguarda l'RSA Maestrini, dice, la direzione di Agora ha assicurato di aver liquidato tutte le mensilità fino ad aprile e di essere in grado di regolarizzare le competenze contrattuali entro il prossimo giugno. Per le altre tre strutture, Villa Mimosa, Santa Rita e Podere Modello, si procederà per gradi, riducendo la forbice dei pagamenti fino ad arrivare alla completa regolarizzazione degli stipendi entro marzo 2017. Rassicurazioni sono giunte anche sul piano della carenza di organico. Agora afferma che sono in corso assunzioni per il reintegro delle posizioni mancanti su tutte le strutture. Un infermiere è già entrato in servizio alla RSA Maestrini. Sul fronte di Terontola continua a raccontare Claudio Cullurà del Nursind. Agora ha dichiarato che i licenziamenti erano un atto dovuto a causa della restituzione del ramo d'azienda, ma gli infermieri cessati dal servizio dovrebbero dunque transitare da Agora all'eventuale struttura subentrante.